Nella scorsa lezione ci siamo occupati di descrivere le caratteristiche sperimentali della radiazione emessa da un corpo nero. In particolare, come approssimazione abbastanza fedele di quello che può essere un corpo nero, abbiamo considerato una cavità, quindi un oggetto cavo sulla cui superficie viene praticato un foro, un foro che sia molto piccolo rispetto alle dimensioni della cavità. Quando un raggio luminoso entra all'interno di questa cavità, nelle riflessioni successive viene via via assorbito, di conseguenza è estremamente difficile che questo raggio possa di nuovo uscire dal foro praticato. Questa è la migliore approssimazione di corpo nero che abbiamo considerato fino adesso. Bene, è proprio esaminando il comportamento termodinamico di questo tipo di sistema che possiamo cercare un'interpretazione teorica delle caratteristiche della radiazione emessa da un corpo nero quando questo viene scaldato ad una temperatura T. Abbiamo trovato due principali risultati per quanto riguarda le caratteristiche sperimentali. Essi sono la legge di Stefan Boltzmann, che ci dice che l'intensità totale emessa da un corpo nero riscaldato quando viene portato a temperatura T è direttamente proporzionale alla quarta potenza della temperatura. Quindi questa è la legge di Stefan Boltzmann. Sigma è la costante di Stefan Boltzmann. E inoltre abbiamo trovato la legge di Wien per cui la lunghezza d'onda in corrispondenza della quale si ha il massimo dell'emissione nella distribuzione delle intensità emesse è inversamente proporzionale alla temperatura assoluta. Quindi il prodotto della lunghezza d'onda in corrispondenza della quale si ha il massimo di emissione per la temperatura assoluta dà un valore costante che è dato da 2,898 per 10 alla meno 3 metri per Kelvin. Ora, questi risultati, così come la distribuzione completa della emissione in funzione della lunghezza d'onda, hanno bisogno di una interpretazione teorica. Alla fine dell'Ottocento c'è stato chi ha cercato di interpretare da un punto di vista teorico questo comportamento del corpo nero, utilizzando le leggi fisiche allora conosciute, mettendo insieme quindi quanto conosciuto sulla meccanica e quindi attraverso le leggi della dinamica quanto conosciuto sull'elettromagnetismo cioè le equazioni di Maxwell e inoltre le informazioni conosciute sulla termodinamica. La termodinamica ci permette, infatti, di stabilire una volta che un oggetto, ad esempio un corpo nero, venga portato ad una certa temperatura in equilibrio termico a temperatura T ci permette di stabilire come è distribuita l'energia termica nelle sue varie componenti. Le equazioni di Maxwell permettono di prevedere e descrivere correttamente la propagazione delle onde elettromagnetiche quindi anche della radiazione emessa da un corpo nero. La meccanica permette di capire come si muovono le particelle microscopiche responsabili dell'emissione e dell'assorbimento della radiazione per esempio gli elettroni che formano le pareti che sono presenti nelle pareti interne della cavità all'interno della quale si forma la radiazione successivamente emessa attraverso il foro. C'è un problema però. Il tentativo di interpretare il comportamento del corpo nero alla luce di queste leggi si è rivelato fallimentare. Vediamo il perché. Partiamo da un presupposto. Cerchiamo di descrivere il comportamento del corpo nero descrivendo il comportamento della radiazione all'interno di questa cavità visto che questa rappresenta la migliore approssimazione conosciuta di corpo nero. Se questa cavità viene portata a temperatura T all'interno si forma una certa quantità di radiazione che, se il sistema è in equilibrio termico, dovrebbe essere in equilibrio termico anch'essa, in equilibrio insieme alla cavità. Quindi si ha uno scambio continuo di energia tra le pareti della cavità e la radiazione elettromagnetica che si forma al suo interno. Attraverso il foro, quindi, la piccola percentuale di radiazione che esce dal foro una volta che il sistema venga scaldato rappresenta, quindi, anch'essa una radiazione di corpo nero. E allora, se noi riusciamo a capire quali sono le caratteristiche della radiazione presente qui all'interno della cavità potremmo capire quali sono le caratteristiche della radiazione di corpo nero emessa attraverso il foro. Ora, la radiazione all'interno della cavità presenta, per quanto previsto dall'equazione di Maxwell, non mi soffermo sui dettagli, ma andiamo soltanto a puntualizzare alcuni fatti fondamentali, questa radiazione deve essere presente sotto forma di onde stazionarie. Che cos'è un'onda stazionaria? Beh, per capire cos'è un'onda stazionaria e come la descrizione di un'onda stazionaria possa riflettersi nella descrizione della radiazione di corpo nero, facciamo un esempio più semplice che riguarda le onde. Supponiamo di considerare una corda, una corda fissata alle sue estremità, come la corda di una chitarra. Se questa corda viene pizzicata, essa comincia a oscillare. L'esperienza ci insegna che l'oscillazione tipica di una corda di questo genere fa assumere ad essa una forma di questo tipo. una volta da un lato, una volta dall'altro, di conseguenza si manifesta nella corda un moto avanti e indietro attorno alla posizione di equilibrio in cui la corda è dritta che dà origine poi all'emissione eventuale di onde sonore. Si può subito notare che, essendo la corda fissata alle sue estremità, l'oscillazione non può riguardare l'estremità della corda, quindi all'estremità l'oscillazione presenta dei cosiddetti nodi. Quindi qui ci sono dei nodi. I nodi sono i punti in cui non si ha alcuna oscillazione o in cui l'oscillazione ha ampiezza nulla. Si può anche notare che l'oscillazione riguarda tutta la corda, a eccezione dell'estremità, ma che l'ampiezza di questa oscillazione avanti e indietro risulta diversa da punto a punto della corda. In particolare, più ci avviciniamo, ovviamente il disegno è molto approssimativo, ma più ci avviciniamo ai nodi, più l'ampiezza dell'oscillazione si restringe. L'ampiezza massima ce l'abbiamo nella zona centrale. Quindi l'ampiezza è funzione della posizione sulla corda. E questa è una caratteristica delle onde stazionarie. Se noi consideriamo invece una corda che non ha delle estremità vincolate, una corda molto lunga di cui non vediamo le estremità, sappiamo che la presenza di una perturbazione su un punto della corda determina il propagarsi di un'onda non stazionaria. Cioè questa perturbazione si propaga o verso destra o verso sinistra, e quindi dopo un certo tempo la stessa forma della perturbazione la ritroviamo spostata in altri punti della corda. Quindi si ha il propagarsi della perturbazione verso destra o verso sinistra lungo la corda. Una perturbazione oscillante di tipo armonico dà luogo ad un'onda di tipo sinusoidale. Quindi vedremo nel caso normale di un'onda non stazionaria, la forma di una sinusoide la cui ampiezza ho abbondantemente esagerato, giusto per rendere l'idea, e questa sinusoide dà l'impressione di un movimento verso destra o verso sinistra, cioè i massimi della sinusoide si spostano. Questo spostamento corrisponde alla propagazione del segnale. Quindi dopo un certo tempo troviamo la forma della corda in questo modo, cioè la deformazione si sposta, e così via. Sappiamo che la descrizione matematica lungo una corda di un'onda sinusoidale di questo tipo può essere fatta attraverso una funzione del tipo y, dove y rappresenta la coordinata dello spostamento verticale della corda, uguale a, dove a rappresenta l'ampiezza dell'oscillazione, coseno di ωt più 2π su λx più un'eventuale fase iniziale, un angolo di fase iniziale. Cosa rappresenta questa equazione? La parte dipendente dal tempo, che presenta la pulsazione, rappresenta l'oscillazione verso l'alto e verso il basso del singolo punto della corda, oscillazione di tipo armonico. La parte spaziale, invece, quindi la funzione della posizione x misurata lungo la corda, determina l'andamento sinusoidale della forma della corda in ogni istante. Cioè, se noi facciamo una fotografia della corda in un determinato istante, in funzione della coordinata x, noteremo ancora la forma di una sinusoide. però se facciamo passare del tempo, a causa della presenza del termine dipendente dal tempo, questa sinusoide si sposta verso destra o verso sinistra, a seconda del segno che è presente qui. Qui abbiamo dato un segno a più. E allora la perturbazione avviene in un verso. Se cambiamo segno, la perturbazione avviene nel verso opposto, ma sempre lungo la corda. Cosa succede nel caso di un'onda stazionaria? Nel caso di un'onda stazionaria, noi abbiamo due onde non stazionarie, una che si propaga verso destra e una che si propaga verso sinistra, con la stessa ampiezza, la stessa pulsazione e la stessa lunghezza d'onda. La sovrapposizione di queste onde dà luogo ad una, ad un'onda in cui le caratteristiche di dipendenza dal tempo e dalla posizione non sono legate ad un'unica funzione trigonometrica, ad un'unica funzione seno o coseno. compaiono due funzioni seno o coseno separate, una che descrive la dipendenza dalla posizione e una che descrive la dipendenza del tempo. Si può dimostrare, infatti, che un'onda stazionaria presenta una forma del tipo y uguale a coseno di 2pi greco sull'anda x per coseno di omega t. Questa è la sovrapposizione di due onde tipo quella che ho appena descritto prima, però una che si propaga in un verso e una che si propaga nel verso opposto. Non evito, perché non è il principale scopo di questa lezione, di trattare i dettagli di come si arriva a questa relazione. Semplicemente possiamo notare che esiste una funzione goniometrica che descrive la parte spaziale e una funzione goniometrica che descrive la parte temporale. Ora, se noi fissiamo un solo punto sulla corda, si capisce che viene fissata la posizione x, il che significa che questa funzione, divenente dalla posizione, determina di fatto l'ampiezza dell'oscillazione armonica descritta invece dalla funzione divenente dal tempo. Quindi il coseno di omega t determina un'oscillazione armonica. L'oscillazione armonica ha la stessa pulsazione in tutti i punti. Quindi tutti i punti oscillano avanti e indietro, però l'ampiezza di questa oscillazione dipende dalla posizione. Non è così nell'onda non stazionaria in cui la posizione e il tempo compaiono all'interno della stessa funzione coseno e quindi non c'è un'ampiezza determinata soltanto dalla posizione. Ma in funzione della posizione e in funzione del tempo ogni punto della corda può trovarsi in una determinata posizione, il che dà luogo ad una propagazione evidente di un segnale verso destra o verso sinistra lungo la corda che abbiamo tracciato. Qui invece viene fissata l'ampiezza di oscillazione per ogni dato punto della corda ed ecco che abbiamo punti in cui l'ampiezza è massima come nel centro di questa corda e punti in cui addirittura l'ampiezza può essere nulla. Questi punti si chiamano nodi e sono quelli in cui la funzione coseno contenente soltanto la coordinata di posizione si annulla. Per esempio, possiamo subito vedere qui che per x uguale pi greco mezzi o meglio, per 2 pi greco su lambda x uguale a pi greco mezzi il coseno diventa zero e per qualsiasi altro valore di x che determina un valore per 2 pi greco su lambda x pari a pi greco mezzi più un numero interno di volte 2 pi greco otteniamo ancora un coseno pari a zero. Questi sono i punti in cui si hanno i nodi. Nell'esempio in questione, x uguale a zero poiché dà luogo all'ampiezza massima perché x uguale a zero dà luogo al valore massimo per il coseno potrebbe corrispondere esattamente al centro della corda. Invece, se noi prendiamo un punto in cui il coseno deve valere zero dobbiamo avere 2 pi greco su lambda x uguale pi greco mezzi o più o meno pi greco mezzi e questo ci permette di trovare i due nodi più vicini lungo la corda. Allora, possiamo semplificare pi greco con pi greco e otteniamo x uguale a più o meno lambda fratto 4. Quindi significa che per x uguale meno lambda quarti e x uguale più lambda quarti otteniamo dei nodi. Il che significa che nella descrizione di questa corda l'intera lunghezza della corda corrisponde di fatto a mezza lunghezza d'onda nell'esempio che abbiamo fatto. Quindi questa corrisponde a lambda mezzi perché qui abbiamo la coordinata lambda quarti qui c'è la coordinata zero e qui la coordinata meno lambda quarti. Quindi un'oscillazione stazionale di una corda così fatta è un'oscillazione in cui si sta propagando lungo la corda una doppia onda sinusoidale corrispondente ad un'onda stazionale alla cui lunghezza d'onda è pari a due volte la lunghezza della corda visto che la lunghezza della corda corrisponde a mezza lunghezza d'onda. Si può propagare lungo la corda anche un'onda stazionale in cui la lunghezza d'onda corrisponde esattamente alla lunghezza della corda. è un'onda fatta in questo modo. In questo caso è presente un nodo anche al centro e allora qui abbiamo un'onda che ha per lunghezza d'onda l'intera lunghezza della corda. se sommiamo le lunghezze del massimo e del minimo di oscillazione otteniamo una lunghezza d'onda che corrisponde esattamente alla lunghezza della corda. Possiamo ulteriormente tracciare altre onde stazionarie con dei nodi sulla corda. L'importante è che ci sia sempre un nodo all'estremità di sinistra e un nodo all'estremità di destra e questo si può ottenere ogni qualvolta si ha che la lunghezza della corda corrisponde a un numero intero di lunghezze d'onda. Quindi se è possibile dividere o meglio, un numero intero di mezze lunghezze d'onda se è possibile dividere la corda in modo tale che la lunghezza della corda e la lunghezza d'onda siano in un rapporto ben determinato o un rapporto intero o un rapporto semi intero abbiamo la possibilità di avere un'onda stazionaria. Ovviamente se noi suddividiamo la corda in n parti dove n è un numero intero scelto arbitrariamente da noi possiamo avere moltissime onde stazionarie con lunghezze d'onda diverse e di fatto ce ne sono infinite basta dividere la corda in n parti dove n è un numero che può essere 0, 1, 2 o anche infinito. Quindi ci sono infinite possibili onde stazionari che possono propagarsi lungo la corda ma questo non significa che tutte le onde che si propagano lungo questa corda possano essere stazionarie per essere stazionarie è obbligatorio che ci siano dei nodi all'estremità. Questo significa che abbiamo un insieme infinito di onde stazionali possibili però in corrispondenza più univoca con l'insieme dei numeri interi. Ora qualcosa del genere avviene anche per le onde elettromagnetiche se torniamo all'esempio della cavità. Dentro la cavità possiamo avere una situazione in equilibrio termodinamico con delle onde elettromagnetiche stazionarie che si propagano all'interno della cavità. Queste onde elettromagnetiche devono avere però dei nodi in corrispondenza delle pareti della cavità. È stato Planck che si è occupato in dettaglio di studiare l'interpretazione teorica della radiazione di corpo nero e il modo più semplice per seguire il ragionamento fatto da lui anche se non in modo completo è quello di considerare una cavità di forma cubica. Quindi quello che possiamo fare è immaginare che la cavità sia di forma cubica e il ragionamento si fa su questo tipo di cavità ma poi è valido in generale una volta che il sistema si è in equilibrio termodinamico. Qui possiamo immaginare tre direzioni principali possibili di propagazione delle onde elettromagnetiche in direzione orizzontale sinistra-destra in direzione orizzontale fronte-retro per quello che è il disegno che stiamo facendo in direzione verticale. Ovviamente le onde possono propagarsi in entrambi i versi quindi possiamo avere onde che fanno sinistra-destra e tornano indietro onde che fanno avanti e dietro onde che fanno su e giù ovviamente ci sono anche tutte le possibilità intermedie con onde oblique ma è possibile scomporre il problema in queste tre direzioni principali. Quello che si osserva è che come nel caso monodimensionale della corda anche per questo caso tridimensionale esiste una infinità di possibili onde stazionari con lunghezze d'onda lambda molto diverse fra di loro dalle più grandi che corrispondono grossomodo alle dimensioni della cavità alle più piccole che in realtà non c'è un limite praticamente possiamo dividere le dimensioni della cavità il lato di questo cubo in n parti con n che può andare da 0 a più infinito e ottenere tantissime possibili onde elettromagnetiche all'interno della cavità ovviamente non è necessariamente vero che tutte le onde all'interno di questa cavità con tutte le lunghezze d'onda possibili per avere onde stazionari siano effettivamente presenti in questo ci aiuta la termodinamica la termodinamica assegna per le condizioni di equilibrio termodinamico un'energia media per ognuna delle onde dei modi di oscillazione delle onde elettromagnetiche all'interno della cavità precisamente per ogni possibile onda stazionaria presente nella cavità la termodinamica prevede un'energia media che è data dalla costante di Boltzmann per la temperatura assoluta la costante di Boltzmann è pari a 1,38 per 10 alla meno 23 J su Kelvin questo è vero per esempio per l'energia cinetica media delle particelle in un gas l'energia cinetica media delle particelle in un gas sempre dell'ordine della costante di Boltzmann per la temperatura assoluta il concetto di temperatura assoluta è infatti legato all'energia media microscopica delle particelle che compongono un sistema così come è vero per le particelle di un gas risulta vero sulla base della termodinamica delle leggi della meccanica dell'elettromagnetismo mettendole insieme che anche in questo caso le onde elettromagnetiche che possono essere presenti all'interno di questa cavità le onde elettromagnetiche stazionare devono avere ognuna un'energia media pari alla costante di Boltzmann per la temperatura assoluta questo comporta un problema vediamo perché se le onde sono sostanzialmente infinite succede che di fatto l'energia totale dovuta alle onde elettromagnetiche presenti all'interno di questa cavità è data è data da un'infinità di onde ognuna delle quali ha un'energia media dell'ordine di k per la temperatura assoluta ora è abbastanza chiaro che se io do la stessa quantità di energia a tutte le onde le onde sono in numero infinito avrò necessariamente all'interno di questa cavità un'energia infinita ripeto il discorso non vale solo per la cavità di forma cubica ho fatto il richiamo alla cavità di forma cubica semplicemente perché la trattazione dettagliata che io non sto facendo della propagazione delle onde all'interno di questa cavità risulta più semplice se si fa l'ipotesi di una cavità di forma cubica ma il risultato si può dimostrare valido per cavità di qualunque forma quindi siamo di fronte ad un risultato previsto dalle leggi della fisica classica che non è accettabile il valore medio dell'energia da associare ad ogni onda e il numero infinito di queste onde determina un'energia totale infinita è chiaro che all'interno di questa cavità non può essere presente un'energia infinita anche perché questo comporterebbe nel momento in cui ci fosse un foro in questa cavità e avessimo quindi un'emissione di radiazione di corpo nero da questo foro avremmo anche per l'intensità della radiazione emessa da questo foro un valore infinito e questo oltre ad essere in evidente disaccordo con i risultati sperimentali di cui abbiamo discusso nella scorsa lezione è anche assolutamente inaccettabile c'è un altro aspetto che riguarda ovviamente già questo è un problema molto forte ma c'è un altro aspetto che riguarda le previsioni della fisica classica e il confronto di queste previsioni con i dati sperimentali per lunghezze d'onda non troppo piccole quindi per lunghezze d'onda per esempio che siano dell'ordine delle dimensioni della cavità in fondo il numero di onde elettromagnetiche possibili non è così elevato il numero di onde cresce infatti cresce man mano che rimpicciolendo la lunghezza d'onda consideriamo modi di oscillazione che possono essere di fatto infiniti visto che è proprio rimpicciolendo la lunghezza d'onda e aumentando quindi il valore di n che possiamo avere infinite onde quindi il problema dell'energia infinita nasce nel momento in cui andiamo ad esaminare l'energia di onde con lunghezza d'onda via via più piccole ma è chiaro che le lunghezze d'onda di maggior valore sono in realtà presenti con un numero finito di onde e infatti se riprendiamo le caratteristiche principali dell'emissione di corpo nero andando a rappresentare in grafico in funzione della lunghezza d'onda l'intensità della radiazione emessa ovviamente fissata la temperatura noi sappiamo che il grafico sperimentale ha una forma che diciamo in termini qualitativi e a campana con un andamento asintotico verso lo zero bene la trattazione teorica che abbiamo qui delineato soltanto ovviamente per punti principali senza fare una trattazione matematica dettagliata porta si può dimostrare ad un andamento per quanto riguarda l'intensità della radiazione in funzione della lunghezza d'onda di questo tipo per grandi lunghezze d'onda si ha un andamento asintotico come quello sperimentale quindi i due andamenti quello sperimentale e quello teorico sono sovrapponibili ma nel momento in cui si va per lunghezze d'onda più piccole che si avvicinano al massimo dell'emissione misurato la curva teorica ha un andamento di questo tipo con un andamento asintotico a più infinito nel momento in cui lambda tende a zero per lambda tendenti a zero l'intensità in funzione di lambda tende a più infinito ora l'intensità complessiva emessa dal corpo nero sappiamo è data dall'area in questo grafico sottesa dalla curva che rappresenta l'andamento dell'intensità in funzione della lunghezza d'onda quindi quest'area che ho evidenziato in giallo è chiaro che se io dovessi andare a calcolare l'area invece della curva teorica quindi anche quest'area si può vedere che quest'area risulta infinita cioè l'integrale improprio che viene calcolato considerando la curva teorica è un integrale che se calcolato fra zero e più infinito per le lunghezze d'onda in particolare con riferimento allo zero porta ad un valore infinito quindi anziché ottenere e riprodurre la legge di Stefan Boltzmann per cui l'intensità complessiva emessa in tutte le lunghezze d'onda dovrebbe essere proporzionale alla quantità potenza della temperatura la previsione classica è che l'intensità debba essere infinita la legge teorica classica invece funziona abbastanza bene per grandi lunghezze d'onda quindi in questa regione qui infatti il problema del numero infinito di onde non si presenta e questa legge che dà un andamento dell'intensità in funzione della lunghezza d'onda con una proporzionalità che va come 1 su λ alla quarta quindi l'intensità in funzione della lunghezza d'onda è proporzionale a 1 su λ alla quarta questa qui va sotto il nome di legge di Rayleigh Jeans e la legge classica funziona solo per grandi valori della lunghezza d'onda ma è in evidente disaccordo con i dati sperimentali per piccoli valori della lunghezza d'onda è chiaro che qualcosa nell'interpretazione classica non funziona visto che la curva sperimentale quella effettivamente che rappresenta il comportamento del corpo nero reale quella che qui abbiamo rappresentato in rosso non è in accordo con la legge di Rayleigh Jeans di conseguenza è necessario rivedere qualcosa nell'interpretazione classica la revisione che noi facciamo fa riferimento alla cosiddetta ipotesi di Planck in cosa consiste questa ipotesi Planck che ha studiato a fondo il problema dell'interpretazione delle caratteristiche della radiazione di corpo nero ha fatto il seguente ragionamento la termodinamica assegna ad ognuna delle onde elettromagnetiche stazionare presenti all'interno della cavità un'energia dell'ordine costante di Boltzmann per la temperatura assoluta è chiaro che il problema principale visto che nessuno ha messo in discussione non ci sono ragioni per mettere in discussione il conteggio delle onde stazionarie il problema principale nel risultato classico consiste proprio nel calcolo di questa energia media da associare alle onde stazionarie cioè il fatto che l'energia epsilon media associata ad ogni onda sia sempre uguale indipendente dalla lunghezza d'onda determina quella che si chiama catastrofe ultravioletta quindi la prima cosa che ha fatto Planck è stata quella di identificare il punto del ragionamento classico in cui si osserva la nascita del problema il problema della cosiddetta catastrofe ultravioletta catastrofe ultravioletta è perché il problema si manifesta alle piccole lunghezze d'onda cioè nella regione dell'ultravioletto solitamente ovviamente dipende dalla temperatura questa cosa però diciamo per piccole lunghezze d'onda quindi dall'ultravioletto in poi raggi x raggi gamma abbiamo l'emissione di radiazione che non corrisponde nella previsione teorica a quella sperimentale come è stato risolto questo problema beh Planck ha rifatto i calcoli dell'energia media facendo un'ipotesi l'ipotesi è la seguente anziché supporre che l'energia che si propaga con le onde elettromagnetiche venga trasmessa alle pareti o dalle pareti della cavità con un flusso continuo ha fatto l'ipotesi che lo scambio di energia tra le pareti della cavità e le onde elettromagnetiche che all'interno di queste cavità si muovono avvenga per quantità multiple di una grandezza fondamentale di un quanto un quanto di energia e lì si è accorto che se l'energia presente in ogni onda deve essere un multiplo intero di una quantità fondamentale che indichiamo con delta epsilon quindi l'energia di un'onda deve essere un multiplo intero diciamo k volte dove k è 0 1 2 eccetera k volte una quantità fondamentale del time zone l'ipotesi nasce in termini matematici cioè Planck ha cercato la ragione matematica per cui il valore medio dell'energia in condizione di equilibrio termico risulta essere pari a kt indipendentemente dalla lunghezza d'onda si è accorto che questo risultato può essere evitato e corretto se si immagina che l'energia scambiata dalle onde elettromagnetiche sia uguale ad un multiplo intero di una grandezza fondamentale che chiamiamo per il momento quanto di energia non faccio la trattazione matematica riporto i principali risultati ottenuti da Planck facendo questa ipotesi nel caso in cui il quanto di energia delta epsilon risulti molto più piccolo del valore della costante di Boltzmann per la temperatura assoluta allora quello che si ottiene è che l'energia media associata ad ogni onda elettromagnetica stazionale risulta di nuovo dell'ordine della costante di Boltzmann per la temperatura assoluta cioè se la quantizzazione chiamiamola così cioè il fatto che l'onda stazionale abbia un'energia pari ad un multiplo intero di questa quantità fondamentale è una quantizzazione molto fine cioè con valori del quanto fondamentale molto molto piccoli un po' come se avessimo un bicchiere pieno di sabbia con piccoli granelli allora in questo caso questa ipotesi non ha praticamente alcun effetto cioè l'energia è sempre dell'ordine della costante di Boltzmann per la temperatura assoluta si osserva invece da un punto di vista matematico che se delta epsilon dovesse essere già dell'ordine della costante di Boltzmann per la temperatura assoluta quindi significa che l'energia associata classicamente ad un'onda risulta essere dell'ordine del quanto fondamentale quindi in questo caso è un po' come se invece di avere un bicchiere pieno di sabbia avessimo un bicchiere con qualche sasso molto grosso è chiaro che in questo caso la granularità del contenuto del bicchiere è molto più evidente rispetto a quando abbiamo il bicchiere pieno di sabbia quello che succede è che il valore dell'energia media in questo caso risulta essere molto minore del valore della costante di Boltzmann per la temperatura assoluta cioè si inverte la situazione se il quanto fondamentale è molto più piccolo di Kt l'energia media è dell'ordine di Kt se il quanto è dell'ordine di Kt allora l'energia media risulta minore di Kt ora noi sappiamo che il problema della cattiva interpretazione delle caratteristiche della reazione di corpo nero nasce alle piccole lunghezze d'onda laddove si hanno moltissime possibili onde elettromagnetiche se tutte sono popolate con un'energia dell'ordine di Kt ne viene fuori un'energia infinita cioè quella che abbiamo chiamato catastrofe ultravioletta quindi Planck fa un'ipotesi l'ipotesi è che questa situazione cioè quella classica si verifichi per valori della lunghezza d'onda grandi laddove invece la trattazione teorica classica fallisce cioè per piccoli valori della lunghezza d'onda dovrebbe verificarsi questa situazione cioè un'energia media molto minore di Kt dobbiamo quindi immaginare che le dimensioni del quanto fondamentale di energia debbano dipendere dalla lunghezza d'onda o dalla frequenza il che è la stessa cosa ricordiamoci che la frequenza di una radiazione elettromagnetica è data dalla velocità della luce diviso la lunghezza d'onda o viceversa la lunghezza d'onda è data dalla velocità della luce diviso la frequenza quindi se noi dovessimo avere un quanto di energia dipendente nelle sue dimensioni dalla frequenza potremmo ottenere una situazione di questo tipo cioè un confronto fra il quanto di energia e l'energia media assegnata classicamente dalla termodinamica ad ogni onda che dipende dalla lunghezza d'onda cioè alla variare della lunghezza d'onda possiamo avere situazioni anche molto diverse questa o questa l'ipotesi più semplice da un punto di vista matematico che Planck ha fatto è la seguente e gli ha ipotizzato che il quanto di energia Δε sia direttamente proporzionale al valore della frequenza attraverso una costante di proporzionalità che per il momento indichiamo con la h seguendo la notazione che ha utilizzato Planck questa è un'ipotesi molto semplice ed è stato diciamo un tentativo per verificare se una trattazione matematica semplice poteva dare effettivamente una corretta interpretazione se dobbiamo immaginare che Δε debba essere dipendente della frequenza e che debba essere grande per valori grandi della frequenza e piccola per valori piccoli della frequenza è abbastanza facile immaginare come ipotesi più semplice che Δε sia direttamente proporzionale alla frequenza questa costante chiaramente per ora è da determinare per il momento abbiamo ottenuto quanto volevamo cioè se λ è grande e quindi F è piccola abbiamo un quanto di energia molto piccolo e torniamo al risultato classico se λ risulta essere piccola invece abbiamo una frequenza grande la frequenza grande corrisponde un grande valore per il quanto di energia ricordiamoci che grande e piccolo sono soltanto relativi diciamo nel confronto reciproco allora in questo caso possiamo avere un quanto che può essere dell'ordine di Kt o addirittura superiore ed è in questo caso che Planck ha ottenuto un'energia media per le onde che è molto minore di Kt addirittura tendente a zero precisamente il risultato di Planck è stato di questo tipo l'energia media per un'onda di frequenza F è data da Epsilon funzione di F uguale ad H per F cioè esattamente il valore del quanto di energia fratto E elevato ad H per F diviso costante di Boltzmann per la temperatura assoluta meno 1 da notare la presenza dell'esponenziale cerchiamo un attimo di capire qual è il comportamento matematico di questa funzione che rappresenta l'energia media nelle condizioni estreme cioè per esempio per frequenze molto grandi o per frequenze molto piccole per frequenze molto piccole il che significa per valori di lunghezza d'onda molto grandi cioè quando la previsione classica è corretta vediamo cosa succede il limite per Epsilon che tende a scusate non per Epsilon per F che tende a 0 di Epsilon di F è uguale può essere calcolato attenzione perché questa è una forma indeterminata perché vediamo che per Epsilon che tende a 0 tende a 0 il numeratore ma tende a 0 anche il denominatore in quanto l'esponenziale tende a 1 meno 1 fa 0 si tratta di una forma indeterminata lascio a voi se avete già qualche nozione di analisi matematica il calcolo di questo limite si può dimostrare che questo limite è dell'ordine di K per T quindi con frequenze molto piccole questa funzione tende al valore classico cioè costante di Boltzmann per la temperatura assoluta confermando il fatto che per grandi valori della lunedza d'onda cioè nel regime che nel grafico è rappresentato da questa regione la previsione classica qua rappresentata in blu effettivamente corrisponde con i dati sperimentali qui rappresentati in rosso con la curva a campana in rosso il problema invece si presenta quando andiamo a calcolare il limite per F che tende a più infinito di E di F nella previsione classica questo limite è sempre KT perché in realtà nella previsione classica l'energia media è costante ed è pari a K per T beh in questo caso si può dimostrare ed è abbastanza facile vederlo che per F tende a più infinito sopra abbiamo un infinito di primo ordine diciamo con una funzione lineare sotto abbiamo un infinito di tipo esponenziale questo limite fa zero di conseguenza l'energia media risulta essere molto piccola per grandi valori della frequenza cioè per piccoli valori della lunghezza d'onda laddove si manifesta il problema della catastrofe ultravioletta di conseguenza non abbiamo più nell'ipotesi di Planck la previsione classica che l'energia risulta sempre e solo l'energia media sempre e solo K a T scusate era qua l'energia media adesso è funzione della frequenza per piccole frequenze l'energia media è K a T ma per grandi frequenze questa energia tende a zero questo è il risultato dell'ipotesi di Planck e risolve il problema della catastrofe ultravioletta Planck ha infatti dimostrato che con questa ipotesi l'intensità l'andamento dell'intensità in funzione della lunghezza d'onda è di questo tipo io adesso riporto l'intensità spettrale quindi funzione della lunghezza d'onda per una data temperatura T è data da 2 pi greco costante H introdotta da Planck per la velocità della luce al quadrato fratto lambda cioè la lunghezza d'onda elevata alla quinta linea di frazione al numeratore abbiamo 1 e al denominatore abbiamo E elevato ad H H c sull'ambda costante di Boltzmann per la temperatura assoluta meno 1 chi volesse vedere le caratteristiche matematiche di questa funzione potrebbe rimuovere le costanti e studiare una funzione del tipo qui abbiamo 1 su lambda come sull'esponenziale quindi studiare una funzione del tipo 1 su x alla quinta per 1 fratto E elevato a 1 su x meno 1 e vedere un po' che forma A questa funzione studiando questa funzione mancano le costanti quindi cambia il valore numerico in assoluto però l'andamento è questo studiando questa funzione è possibile vedere si riproduce una curva a campana come quella ottenuta sperimentalmente dall'analisi dell'intensità emessa da un corpo nero e c'è da considerare una cosa se andiamo a vedere le dimensioni della velocità della luce della lunghezza d'onda e delle altre grandezze presenti qui si trova che H per poter avere un'intensità di radiazione diviso una lunghezza una potenza per unità di superficie diviso ancora una lunghezza H deve avere per dimensioni quelle di una energia quindi deve essere misurata in joule per un tempo quindi queste dovranno essere le unità di misura di H ora se uno va a fare il confronto tra la curva che rappresenta l'intensità in funzione della lunghezza d'onda ottenuta sperimentalmente cioè dalle misure dell'intensità della radiazione messa dal corpo nero e la curva teorica matematica ottenuta con questa funzione per poter avere una sovrapposizione corretta H deve avere un valore dato da 6,63 per 10 alla meno 34 joule per seconda e questo è effettivamente il valore ottenuto da Planck questa costante oggi infatti si chiama costante di Planck essa ha per la teoria quantistica un ruolo di primo piano esattamente come la velocità della luce ha un ruolo di primo piano nella relatività possiamo andare a vedere un attimo come si rappresenta matematicamente questa funzione andandola a rappresentare graficamente scusate un attimo dobbiamo richiamare il programmino che la visualizza ecco qui il programmino sviluppato in questo caso non fa altro che rappresentare la funzione matematica che vi ho indicato in funzione della lunghezza d'onda lambda infatti in ordinate abbiamo una potenza per unità di volume cioè una potenza per unità di superficie diviso la lunghezza d'onda perché poi l'integrale di questa funzione deve dare una potenza per unità di superficie cioè effettivamente un'intensità di radiazione qui la funzione è rappresentata queste non sono curve sperimentali sono curve teoriche è rappresentata per diversi valori della temperatura ve l'ho mostrata già durante la prima lezione questa funzione al variare della temperatura si ottengono delle curve a campana dando ad h il valore della costante di Planck che vi ho indicato effettivamente queste curve teoriche rappresentano correttamente l'emissione di corpo nero per come viene fuori dalle misure quindi questa funzione rappresenta effettivamente la corretta espressione dell'emissione di corpo nero e viene tenuta sotto l'ipotesi di Planck cioè l'ipotesi fondamentale per cui lo scambio di energia tra elettroni responsabili dell'assorbimento dell'emissione di radiazione e la radiazione stessa non avviene in modo continuo ma a pacchetti ed ogni pacchetto ha un'energia fondamentale Δε che è data dalla costante di Planck moltiplicato la frequenza il che significa che questo pacchetto risulta essere grande per radiazioni di elevata frequenza le cosiddette radiazioni ionizzanti e piccola per radiazioni di bassa frequenza quali possono essere per esempio le microonde o le onde radio la cosa fondamentale è che questa ipotesi inizialmente fatta da Planck soltanto per risolvere matematicamente il problema ha dato di fatto inizio alla teoria quantistica la sua efficacia nel fare interpretare correttamente l'emissione della radiazione di corpo nero è stato soltanto l'inizio in realtà questa stessa ipotesi ha per esempio permesso di interpretare correttamente altri fenomeni come per esempio l'effetto fotoelettrico o l'effetto Compton di cui parleremo nelle prossime lezioni è stato soltanto l'effetto di cui parleremo è stato soltanto è stato soltanto l'effetto